Ciao a tutti ragazzi, io sono Ambu e quello che state vedendo qui sullo schermo è Skywalk Che cos'è Skywalk? Non è nient'altro che una mappa parkour di Minecraft che ho trovato sul forum Non è tra le più, diciamo, visitate, scaricate che sia Però, dato che stavo cercando un po' sul forum delle nuove mappe, delle cose da fare fighe Ho trovato questa mappa, guardando un po' di screenshot, sembrava qualcosa di figo, lungo, parkour, sbrocco Sapete bene che a me le mappe parkour fanno sbroccare, so anche che a voi, per quanto io sicuramente non sbrocchi in modo spaventoso simili Ma in modo più velato, mi piacciono abbastanza queste mappe parkour, diciamo Come potete vedere qui parte tutta una cosa, un parkour volante Cioè, se cado praticamente, torno all'ultimo checkpoint salvato, è qualcosa di lunghissimo Io non oso immaginare, spero di... cioè, non sembra difficilissimo in realtà Il problema qual è? È che se sbagli sei fottuto, in poche parole E unire il parkour alla webcam, secondo me, sarà una cosa abbastanza divertente Quando inizierò a ingazzarmi un po' Comunque dai, non perdiamo troppo tempo Qui ci sono i letti per settare il nostro spawn Press button to standardize skywalk for gameplay Vediamo se qua ci sono altri bottoni o cose, no? Non c'è niente Ok C'è l'ender chest, buono per spostarci le cose Quindi, boh, prendiamo questi cosi Cicchiamoli subito qua Vediamo un attimo le regole Posso usare il bomb meal Mettere in peaceful, è già in peaceful Posso distruggere la clay Posso distruggere i blocchi di diamante Bello perché You can only destroy clay A destra, you can destroy diamond blocks Diamond, scusate Vabbè, è bello One The wooden jump Faccina che sorride così Ah, addirittura pure l'obsidian Vabbè Press button to standardize Ok, sì, mi ha messo tutto giusto Grande Sono fighissimi questi cosi che hanno aggiunto su Minecraft Primo salto Primo errore Com'è possibile? Dai, dai Tutto d'un fiato Iambu sale, sale Non fa male Oh, guarda qua Già una cesta Prova a non nascondersi queste ceste Per ora è molto semplice Però è il primo livello Sono 12 livelli di parkour Guarda, primo livello già fatto Sono fortissimo Io me la sento Che questo sarà il parkour più bello della mia vita L'unico in cui forse non succherò come un mostro Allora Good job You have reached level 2 Lasciate stare il mio inglese Lo sapete che faccio schifo Click time Cioè click for night time Ok Eh, buono Così mi setto lo spawn Mettiamoci qua Fatta bene sta mappa, devo dire L'ho appena iniziata Però è una bella idea questa qua Ora probabilmente The fuck is this shit No Oddio non sono morto È Zubat No, no Ma avete visto Io non sto giocando da un sacco a Minecraft Infatti devo Mi sto aggiornando su tutte le novità No ragazzi E così mi compare Zubat Stiamo scherzando No, no No c'è le pokeball pure Devo craftare le pokeball Che cazzo No, oddio Così cado Non mi funziona la corsa Ok, grande Eh, a parte che faccio prima così Guardate Che furbo che sono Tac, tac, tac Anzi no, vabbè Rifaccio il parkour Dai non mi suicido Sarebbe La bastardi Vabbè Guarda quanti Zubat Bu Ragazzi Ci sono altre novità strane Che scoprirò Ci sono altre novità strane Che scoprirò Su Minecraft Che non avevo seguito Molto ultimamente La situazione Perché Sto Zubat Mi ha davvero Colpito Insomma Qualcosa di Epico Vediamo qua C'è da prendere questo Questo Mettiamo via Qua 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 Ok Level 2 I like to call this Balance yourself Devo stare sui cosi Però guarda Io qua ci passo così Perché sono un vero boss Like a boss l'unica cosa che non mi ispira totalmente di questa mappa sinceramente per ora è che è molto vuoto l'ambiente intorno ad esempio non lo so io so che cosa c'è dentro qua dicevo rispetto ad altre mappe parkour vedete ad esempio quella di dicevo rispetto ad altre mappe parkour come possono essere ad esempio quella di siamo seri ma vaffanculo dai non è possibile su che cazzo è non scherziamo dicevo e spero che sia l'ultima volta che dico dicevo perché l'ho detto già tante altre volte probabilmente non le avrete viste tutte ma fidatevi è passato un po' di tempo giusto un pochino perché non volevo volare mi sembrava cattivo e stavo dicendo voi preferite delle mappe parkour che magari sono fighe ben strutturate come può essere questa io ora non è che ho visto chissà cosa ho guardato un po gli screenshot eccetera e sembra bella però dico preferite mappe come queste che non sono molto elaborate però il parkour è figo o preferite mappe magari come appunto quella di oddio sto cadendo nel vuoto come quella di assassin script che hanno un'ambientazione fighissima attorno e magari boh tralasciano un po' il il parkour non che assassin script non che assassin script tralasci il parkour ma è una domanda rivolta a voi più per sapere come organizzare eventualmente i miei prossimi video serie se vi piace di più un'ambientazione strafiga oppure se è relativo nel senso se c'è bene se non c'è se ne fa a meno ma l'importante è la sostanza diciamo in questo caso il fatto che il parkour sia buono oddio non mori no 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 non ci posso credere non dirmi che non dirmi che avrò una morte lente dolorosa come esco da qui vaffanculo vaffanculo questo episodio non so fino a dove arriverà sinceramente spero di arrivare almeno al livello 3 poi mi sa che dovrò chiuderlo perché lo sclero sarà pesante oh bravo e non sono nemmeno morto guarda mi butta nella lava gg bravo applausi per ambu ambu applausi 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 per ambu e forse devo no non dirmi che vaffanculo come si esce veloce da questa merda chi chi ragazzi personalmente sto iniziando a ricordare il motivo per cui odiavo a morte le mappe parkour odio profondo dal mio cuore proprio e esce una scritta grande 72 nei caratteri di word odio il parkour no ora devo farcela mi raccomando respiro sei pronto ambu tre due uno oddio questo è easy vediamo qua mettiamoci qui prendiamo la nostra cosa e ributtiamoci qua vaffanculo vaffanculo vabbè ormai quel lingotto l'ho preso non devo più scendere non morirò spero quindi è così che si fa tutto d'un fiato su forza ambu spero spero sinceramente che vi piaccia questa mappa come ho detto non è tra le più votate sul forum di minecraft però a vedere dagli screen personalmente a me ispirava io l'ossidiana la posso distruggere aveva detto però va bene congratulation reach reach level 4 mettiamo via queste cose ok le pozioni le spostiamo qua così le vediamo subito e qua mettiamo questi e allora mettiamo la notte dormiamo perché fa sempre bene dormire ragazzi non fate come me che non dormo mai niente poi sono sempre un po' una testa di cazzo perché non dormendo mai questi sono i risultati e direi che per il livello 4 ninja training aspetteremo il prossimo episodio ho fatto i primi 3 sono 12 cose in tutto ora ovviamente non credo che ne farò 3 alla volta ogni bot perché penso che diventeranno sempre più difficili io ho avuto difficoltà anche nell'1 il 2 il 3 sono una sega lo so ragazzi mea culpa sono spiegato c'è poco da fare però diciamo che è un piccolo inizio di di questa serie e l'utilità di di queste cose ora come ora è che chi sta seguendo appunto il secondo canale dove sto caricando prototype e altro sta vedendo che voglio iniziare a prendere un po' costanza nei video se si riesce anche uno al giorno sul canale secondario essendo semplicemente un live continuato di prototype ci sto riuscendo tranquillamente vorrei riuscirci però ovviamente sul canale principale con minecraft devo trovare un po' diverse cose da fare perché ovviamente è impossibile registrare chissà quanto della stessa cosa oppure se ci sono altre persone in ballo eccetera è difficile perché dovrei trovarmi con gli altri e niente ci sentiamo al prossimo episodio fatemi sapere se vi è piaciuto se il fatto di fare parkour con la telecamera vi piace un pollice in su per le mie cuffie totalmente distrutte attaccate con lo scotch se avete visto da qui non sento nemmeno l'audio ma uso le cuffiette uso solo il microfono dell'EG35 quindi ambu barbone non perché ho la barba ma barbone perché ho le cuffie del cazzo e ci sentiamo al prossimo episodio ragazzi ciao a tutti di